Eccoci qui e bentornati in un altro nuovo video. Come potete vedere oggi sono in vesti leggermente diverse. Questo perché ho incominciato un piccolo progetto diverso. Ovviamente tranquilli che non sostituirà niente del canale principale, ma si tratta solamente di qualche video una volta ogni tanto. Ebbene sì, è con grande entusiasmo che oggi do l'inizio alla Mystery League. Perché Mystery? Non avevo nessun altro nome. Ma non è questo il punto. Il punto è che oggi andrete a vedere dei giocatori mai visti prima. Di una qualità, di una classe, di un talento eccezionale. Solo per voi. La partita di oggi andrà a vedere ben due squadre di tipologie molto diverse. Infatti da una parte abbiamo i criminali, mentre dall'altra parte abbiamo le guardie. Andiamo a vedere i partecipanti delle squadre. Per la squadra dei criminali abbiamo... Fox. Smoffy. Mottum. Edo. E lo svincolato. Sì, svincolato perché è l'amico di un mio amico di cui ancora non so il nome. Però va bene. Mentre per la squadra delle guardie abbiamo... Gallo. Manu. Io. Cocco. E infine Fati. Quelle che avete appena visto sono le statistiche dei nostri giocatori. Statistiche che andranno ad aumentare oppure a diminuire in base all'andamento delle partite. Infatti verranno valutati ben quattro parametri. gol, assist, parata e passaggio speciale. Andiamo a vedere quella che è quindi la formazione finale nel campo e che si dia inizio alla partita tra criminali e guardie. e che cazzo c'è nel po' a te. Oh Dio! Balla, balla! È dubbio! Io sono già presso le squadre. E anch'io. Non lo so. Io ne sono più. Allora, bia, 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 bia. Bia, bia, bia. Bia, bia, bia. Edo, sento. Edo, butta, edo, butta. E' un attimo, l'ho persa la palla questo Dio. Ma Kai! Ma tu la via! Ma tu la faccio! Vinciala! Guardi! Vai! Ciao! Allora, questo non è il mio posto. Ma che cazzo è il posto? Ditto, gioca, non rompe i coglioni! Ragazzi, stiamo prendendo dei finanzieri. Sempre prendo la parte. Sì. Bravo, vai presi! Tira la messia! Ma dove è che pippo? Vai dietro, dietro, dietro. Oddio, oddio! Non puoi prenderla con le mani. Ehi. Vai via. A chi, Manu? A chi? Non va! Ok, ok. Trancialo, tranquilo! Devo tolgere il piede questa palla. Non va! Eh, scopo. Oddio, non va! Va bene, va bene. Non puoi prendere il Kiki, che scorpi, gare. Ma un cazzo. Ma un cazzo. Ma un cazzo scordinato è come un cazzo. Ma un cazzo scordinato. Ma un cazzo. Ma un cazzo. Lunga, sì! Boh, è dispertino. Guarda, mottola! Ma ci sta a 50. Ok, sì, qui si libera. Guarda, mottola! Anche poco è bello! Futa, là dentro! E' una palla. Ma prendila! Che scopo? Lei lo prendi? Per la cazzo. Ho le fome, minchia, era la mia cazzo. No, sbagliato. Manu, non è il momento di buco fra. Cosa fai? Luca, non è così. Lunga, non è scorto. Buono, buono, buono. Guardiamo. Guarda, guarda. Bravo, foto da dietro. Bravo! Ehi, c'è la gamba tesa. Che è? Che è? No, 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 no. Vado. Sì. Tu. E' giù in montana. E' giù in montana. E' giù in montana. No, per favore, gli atti omosessuali fuori dal campo. Oddio. Caprono. Enつapto. E' giù in montana per Benna. C'è? Bè, vabbè. கberò. Qualcettare al campo? Tantano. Ah! Questo Cazzo наших! E' un pezzo di merda! E' un pezzo di merda! Oh, era buono questo tiro! C'è se vuoi la scelta? Prova! Oddio! Oddio, che tiro di testo! No, scusate qua! Prolla, controlla! Bravo Coppacabana! D'altra parte! Oddio! 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 Oh, fateli lo schema, quello che avevo fatto in allenamento! Oddio! Andrà buono, buono! Strancialo, strancialo! Oddio! Pietro! Maaaaaa! Edo, anche qua? Stavo volando per così, mi si è scorta la colonna! Ma che vecchio! Oddio! Oddio, ma chi è la reincarnazione di Ronaldo? Oddio! Oddio! Bello passaggio perché... Oddio! Oddio! Pisa! Che cazzo era un bicicletta minuto? Viva la scuola, amici Viva la scuola! guarda fra, guarda fra ahhh fottola l'altra parte oddio oddio, senti il culo vedi, mandi dentro ehi, esci, esci corri ehi, esci vai, hai fatto il culo andiamo a toccare le palle oooh che è il culo l'ingua l'inglunga 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 vai allo, si mettono ma che c***o è buona eccolo qua cambiamolto l'�� oddio, si ha avuto l'��za occhio uomo eh ma guarda così quasi anche quella che cazzo è dietro ma chi è dietro io no uomo uomo minchia quasi bella lì bella lì si c'è si c'è è 3 a 1 si c'è si c'è non funziona tutta la tattica poi via dalle palle palla vai palla piena manu manu continua 4 uomini addosso di prima lì di prima di prima anche lì ragazzi se qualcuno la metti di testa la metto dentro non credo ho sbagliato corpo scusa nieto se qualcuno va di testa non va le mani sulle gioco manu 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 eh scusa manu manu bravo che cazzo fa no si c'è si c'è no stai a vedere come va il ser cazzo è tutto in mente oddio che paura si 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 è sbagliato qualcuno è indietro ok va vado indietro per play finanziario si si vai si vai si 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 oddio oddio si 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 s s si 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 Raffazi E' guardo col sesso Raffazi Raffazi Incesso Vado Sì, guarda! No, Mississippi Drive, qua è... Ecco, cazzo! Sì, Corby! Asci! Traiati! Traiati! Sì, Corby! Calma, calma! E glielo fate, fate! Sì! Andiamo! Via! Puttala via, bravo! Non è uscito, vai! Puniscilo! Puniscilo! Oh no! Oh, ti attiro! Oh, ti attiro! Eh, vabbè! Tornare, tornare! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Questi vanno a lavoro per fare gli tre! Eh, no! Oh no! Bello! Tornare bello! Tornare! Bello! Tornare! Sì! Common! Non sai stai 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 Dai un cartone in bocca a questo camion! Bravo! Vai, vai, un po' dietro Poi, un po' dietro Lavoro così Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Ragazzi, non ho capito, c'era il bug Ma ho messo un paio di calze in più Oddio È quello di Jude Oddio, scusami Calma, calma Quello di Jude mi è piaciuto Cari, bello! Putta la motula Grazie, mamma Putta la motula Vai Manca la fegola Siamo un 3-1 Che da mani è andato lì, è tu, però Che non lo può fare No, non lo può fare Ma che potere? No, non lo può fare Ma che potere? No Non è vero, oddio, 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 no, è vero, vai, guarda l'uomo, vai, guarda l'uomo, vai, guarda l'uomo, 4-2, 1-1, ti ho messi male, sei l'unico gol, l'ho fatto solo io, va ragazzi, va, con Veroni, con Veroni gira, Vieni dietro, vieni, vai, 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 vai bravo Cranco bravo 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 una finta bravo 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 stiamo Sì, l'hai visto? Sì, ma l'assisto Stefano Grazio Ma caldo, caldo È finita È finita